conturbante viaggi e turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza poche settimane e inizierà una nuova stagione calcistica la 2021 2022 dovrebbe essere la stagione della rinascita ma tale potrà essere solo se ci sarà il raggiungimento dell'immunità di gregge da covid 19 in italia cosa tutt'altro che facile il ritorno del pubblico negli stadi sarà solo graduale è sperabile che non ci sia una nuova recrudescenza del virus come avvenuto nello scorso autunno e soprattutto ci si augura che la vaccinazione possa aiutare anche i giocatori stessi a ridurre il rischio di contagio il presidente massimiliano santoriello ha già fatto capire che vorrà restare in carica alla cavese perché punta a riscattarsi dopo l'ultima stagione molto negativa c'è chi dice che un imprenditore si sarebbe fatto avanti per rilevare delle quote e che il patron abbia rispedito al mittente la proposta su questo non ci sono riscontri al momento ma al di là di ciò l'obiettivo della società a cui lotta per la prossima annata sarà quello di cancellare il campionato appena trascorso in cui la squadra risulta essere stata la prima formazione a retrocedere in serie d sul campo dopo il trapani che era stato escluso a seguito di due rinunce la cavese tenterà la riammissione in serie c in estate e non sarà facile visto che i club interessati sono già numerosi e la quasi totalità delle società aventi diritto all'iscrizione in c dovrebbe riuscire a garantire la partecipazione all'inizio del nuovo campionato quindi la società metelliana dovrà ragionare come se dovesse disputare una serie d con l'obiettivo di giocare un buon calcio se poi il patron sarà in grado di spendere per rafforzare l'organico e dare un messaggio importante alle altre squadre che saranno iscritte al campionato starà poi ai giocatori che faranno parte della cavese dare il massimo può salire una sola squadra per girone ma quella che saprà esprimere il gioco migliore potrà essere in grado di arrivare a questo intanto la federazione ha reso noti ieri sera i paletti che erano molto attesi onde capire quali sarebbero state le possibilità della cavese per essere riammessa in serie c ebbene le condizioni amministrative e disciplinari richieste potrebbero essere tutte soddisfatte dal club aquilotto non essendo la cavese mai stata sanzionata per il lecito amministrativo o sportivo negli ultimi anni e come quelle normative dato che il club non ha ricevuto l'attribuzione del titolo sportivo negli ultimi tre anni la società di santoriello sarebbe ancora intenzionata a tentare la carta della riammissione ma ha una pecca quella relativa ai punti conquistati che sono appena 23 proiettati a 24 con il coefficiente moltiplicatore stabilito dalla figi c quindi ancora pochi per questa ragione sarà tutt'altro che facile la riammissione tra i professionisti